Ciao a tutti ragazzi, oggi qui a Roma è una bellissima giornata, soleggiata, non particolarmente calda e per questo motivo perché non raccontarvela attraverso le fotocamere del Nubia Z11 Dove sto andando? Ve lo dico tra poco, continuate a seguirmi Vi dico dove sto andando, ovviamente sto incontrando Roberto e Nicolò perché abbiamo del lavoro da fare praticamente ieri abbiamo intervistato per conto di Nubia il primo cliente che ha acquistato Nubia Z11 in Italia e quindi abbiamo intervistato Dario, questo ragazzo che ha più o meno la nostra età e oggi ci vediamo per lavorare un po' al video, per lavorare anche a diversi video, diverse recensioni che stiamo facendo e niente, andiamo a salutare anche Roberto e Nicolò allora Nel frattempo qui stiamo per renderizzare il video e si lavora, ci stiamo scegliendo l'ultima canzone, quella della conclusione e niente ragazzi, siamo affamatissimi, non vediamo l'ora di finire e subito andiamo a mangiare Ok tutto fatto, adesso mangiamo Finalmente E niente, ci siamo, dai Sì vabbè ma festeggiamo anche Io direi che abbiamo raggiunto un grande traguardo e che questo pranzo è quasi merenda ce lo meritiamo e anche questo goccio di vino quindi io brinderei Ale Alla nostra Alla nostra Il traffico di Roma è incredibile Allora, adesso siamo arrivati al laghetto dell'Euro e facciamo delle riprese si finisce di lavorare su un lato, si ricomincia sull'altro quindi tutto il giorno a lavorare e con Roberto continuiamo delle riprese di alcuni smartphone abbiamo anche uno smartwatch e da quest'altra parte Confronto S7 Edge Nubia Z11 che a breve provvederemo a mandarlo online e qua abbiamo anche la Misfit Ray che verrà recensita per Gizblog nelle prossime settimane quindi adesso andiamo a recensire e ci sentiamo dopo Ciao ragazzi Ok abbiamo concluso finalmente dopo tutto il giorno si può tornare a casa Stanchi, un po' stanchi Ma soddisfatti Ma soddisfatti Siamo stati veramente contenti di fare questa intervista e siamo molto orgogliosi è stato un grande traguardo che abbiamo raggiunto e sicuramente ce ne aspetteranno degli altri molto più importanti anche Speriamo, come al solito rimanete sintonizzati sul nostro canale per non perdervi tutte le news e le novità che ci sono come al solito e comunque commentate nei video e cercate di dirci anche se avete dei suggerimenti o anche avete delle, non so, vorreste dei confronti delle cose in particolare e nell'ambito delle possibilità comunque cercheremo di accontentarvi Poi non ricordo se l'ho detto ma frontalmente abbiamo girato a 1080p 30fps e anche posteriormente quindi adesso è ufficiale me ne sto andando veramente Si sta facendo sera possiamo anche approfittarne per vedere un po' come si comporta questo sensore in situazioni di scarsa luminosità Devo dire che adesso la luce è poca nonostante tutto la mia figura sembra essere ben illuminata una rota, no? Se vi piacciono le luci di Natale allora Roma è la città perfetta per voi infatti il raccordo ne è pieno venite a Roma ragazzi sono sempre sul raccordo illuminato dagli stop delle auto e non arriverò mai a casa ragazzi finalmente sono ritornato a casa e devo dire che sono veramente stanco ma non tanto stanco per il lavoro di oggi comunque abbiamo fatto moltissime cose ma per il traffico il traffico mi è veramente sfinito comunque a parte questo ragazzi spero che questa giornata in compagnia mia e del Nubia Z11 sia stata di vostro gradimento e adesso credo che mi metterò mangerò prima di tutto qualcosa e poi mi metterò a montare qualche altro video e poi andrò a dormire direttamente sono stanchissimo e niente ragazzi rimanete sul nostro canale per altri video news a proposito di tutte le altre recensioni e vi auguro una buona giornata un saluto da Leonardo per GizChina.it